In merito ai problemi che abbiamo visto connessi alle tematiche ambientali e cambiamenti climatici vorrei adesso soffermarmi su alcuni aspetti che riguardano le possibili soluzioni, soluzioni che in senso lato prendono il nome di adattamento e mitigazione attraverso anche la definizione di un paio di parole chiave che sono la resilienza e la transizione. In particolare considerando le criticità ambientali a livello urbano parleremo anche di alcuni possibili aspetti legati alla città resiliente o alla città in transizione. Parlando di transizione prima di tutto è importante immaginare quindi un periodo che stiamo già vivendo e che sempre di più ci interesserà nei prossimi anni in relazione al cambiamento di approvvigionamento energetico. In altre parole da più parti una soluzione è fortemente identificata nella appunto passaggio, transizione dall'uso di combustibili fossili all'uso di energie rinnovabili. E questo futuro che oggi immaginiamo è già cominciato come dicevo e mi piace portare alcuni esempi, ad esempio l'Olanda oggi presenta la elettrificazione completa di tutta la rete ferroviaria è alimentata al 100% da energia eolica. Altrettanto altri esempi sono portati da altri paesi del nord Europa, ad esempio la Danimarca, il tema del wind power così importante come prioritaria fonte energetica, cioè l'energia eolica che oggi alimenta attività industriali, tutto il settore del trasporto e anche a livello domestico e sempre più si sta affermando come fonte energetica per la produzione di energia elettrica. L'energia eolica quindi supporterà la produzione di energia elettrica entro il 2050 così come previsto anche dal Green Deal europeo in questi paesi europei e la Danimarca stessa si propone come capofila per certi versi a livello di città per dimostrare come questa transizione energetica sia possibile. Transizione energetica che è dimostrata oggi anche da un punto di vista economico, infatti l'eolico e l'idroelettrico presentano costi di produzione che oggi sono fortemente competitivi rispetto alla produzione di energie da combustibili fossili. Ancora Oslo, un altro esempio, d'accordo, sempre in nord Europa, ma sono esempi di città che, esempi dicevo esportabili anche alle altre città europee. Oslo viene chiamata la città più elettrica d'Europa, in particolare per le colonine di ricarica delle auto elettriche ampiamente diffuso su tutto il territorio. L'altro esempio è Hamburgo che si sta affermando come una delle città più sostenibili d'Europa, in particolare nel progetto dell'area portuale con un messo al bando totale delle auto e con la costruzione di più di 1700 chilometri di piste ciclabili e un diffuso sistema di trasporto elettrico pubblico. L'altra parola chiave è la resilienza. Per resilienza intendiamo la strategia di adattamento. È una parola che è un concetto che nasce dalla biologia ma che poi è stata applicata alla scienza dei materiali e oggi anche a livello sociologico. Strategia di adattamento quindi di un organismo vivente o di un materiale in relazione a stress esterni, a cambiamenti esterni. In correlazione, in relazione con i cambiamenti climatici ed in particolare considerando la resilienza a livello urbano, possiamo identificare essenzialmente alcuni aspetti più critici. Uno è la siccità, cioè una riduzione della disponibilità di risorsa idrica. Il secondo aspetto è quello che viene chiamato ondata di calore o effetto isola di calore. Le nostre città, cioè conoscono innalzamenti termici, in particolare naturalmente durante il periodo estivo, molto più evidenti rispetto alle zone circostanze, magari alla campagna o alle zone verdi circostante. E il terzo punto sono gli eventi meteorologici estremi, cioè complessivamente meno pioggia, ma decisamente più concentrata, che può comportare rischi proprio per la sicurezza delle città. Partiamo dall'effetto isola di calore. Qui vediamo alcune immagini dove si può vedere come nelle zone urbanizzate, nel centro città, dove sono predominanti le cosiddette superfici grigie, cioè i palazzi, le strade, i marciapiedi, le piazze, i posteggi, si riscontra una temperatura più elevata, come dicevo prima, rispetto alla zona di campagna o alla zona comunque a più alta intensità di verde, anche di verde urbano. Effetto isola di calore dunque, con temperature anche di 4-5 gradi, appunto più alte rispetto alle zone verdi. Il tema invece della concentrazione della pioggia, eventi di forti piogge nelle aree abitate, comporta questo fatto di un rischio alluvioni delle aree urbane. Perché? Perché sempre le superfici grigie delle nostre città, le strade, le piazze, i posteggi e quant'altro, che sono impermeabili, determinano uno scorrimento delle acque sulla superficie, creando appunto la presenza di grandi volumi da gestire, che difficilmente riescono a essere assimilati dal sistema foniario urbano, e quindi uno scorrimento con rischio alluvione. Nelle immagini in alte vediamo che, fatto 100, quello che piove su una determinata area, il 55% circa scorre lungo le superfici grigie. Una parte evapora e solo un 15% infiltra nel terreno. Al contrario, nelle zone verdi, i numeri si ribaltano. L'evaporazione è un pochino superiore, dal 30 al 40%, ma l'aspetto molto importante è che il 50% riesce a infiltrare nel terreno, riducendo quindi il rischio di scorrimento superficiale, che è al di sotto del 10%, e tra l'altro, avendo come effetto secondario, ma molto importante, quello delle, appunto, attraverso l'infiltrazione dell'acqua nel sottosuolo, un incremento dell'apporto idrico nelle falde sotterranee, il che rappresenta un vantaggio da un punto di vista della disponibilità della risorsa acqua. E allora come possiamo migliorare da questo punto di vista le prestazioni delle nostre città e quindi incrementare quello che è l'adattamento delle nostre città e la mitigazione rispetto a questi fenomeni che comportano anche dei rischi proprio per le nostre città. Una delle soluzioni oggi sempre più conclamate è quella delle tecnologie verdi in ambito urbano. Qui vediamo rapidamente la presenza di un tetto verde, un posteggio, un'area parcheggio permeabile con delle zone verdi, così come questo in alto a destra, una pavimentazione, che presenta la possibilità per l'erba di crescere e quindi garantisce la permeabilità della superficie. aree verdi anche preposte alla depurazione delle acque oppure superfici come le facciate o le pareti verdi. In questa immagine è l'estensione molto interessante di tetti verdi a New York. New York già una decina di anni fa ha incentivato la costruzione di tetti verdi, che sono poi tetti tecnologici, cioè che garantiscono la captazione delle acque piovane e lo stoccaggio delle acque piovane stesse. Dicevo che New York ha incentivato la costruzione di tetti verdi sui edifici pubblici. Ma non è l'unica città, soprattutto in Europa, in questi ultimi direi dieci anni, si è registrato un incremento della costruzione di tetti verdi. Da Berlino a Parigi, da Barcellona alla Danimarca, molteplici iniziative proprio per favorire anche la costruzione di tetti verdi sugli edifici privati, non solo quelli pubblici. Qui vediamo appunto immagini anche di superfici verdi, ampie superfici, facciate e pareti verdi che garantiscono la coibentazione degli edifici, riducendo quindi il consumo energetico che ha un edificio per essere o raffrescato durante il periodo estivo o riscaldato durante il periodo invernale. La presenza di tetti e superfici verdi infatti riduce, ha un effetto benefico dal punto di vista della coibentazione termica appunto, e riduce quindi il consumo energetico dell'edificio. Qui abbiamo altri esempi di superfici permeabili, ad esempio in un giardino pubblico o in un'area residenziale, le superfici permeabili favoriscono l'infiltrazione dell'acqua piovana, riducendo il rischio dello scorrimento superficiale durante gli eventi di forti concentrazioni di piogge. Anche qui vediamo un'immagine di superfici permeabili. In effetti quando parliamo di tecnologie verdi in ambito urbano per la resilienza urbana, non ci limitiamo a immaginare una superficie di prato o seminata a verde, sono vere e proprie superfici tecnologiche, si parla proprio di tecnologie verdi, perché hanno questo effetto di, da un lato coibentare l'edificio, dall'altro garantire l'infiltrazione dell'acqua, dall'altro garantire l'infiltrazione dell'acqua, la raccolta dell'acqua piovana e lo stoccaggio dell'acqua stessa, che magari a livello urbano può essere restituita durante i periodi di maggiore siccità. Ancora esempi di superfici verdi, questa volta a orti urbani, ancora l'esempio di New York, ma non è l'unica città, questa pratica si sta diffondendo anche nelle nostre città, un orto urbano nel tetto, ad esempio di un condominio, tra l'altro può avere anche un'eccellente funzione sociale di aggregazione di persone anziane che si trovano a coltivare nel proprio edificio un orto e la possibilità magari di condividere i prodotti. L'idea di superfici verdi per la coibentazione termica non è certamente una novità, mi piace portare questo esempio di coperture a verdi tipiche dell'Islanda. In questo caso naturalmente la copertura verde ha l'effetto di coibentare rispetto al freddo e sono tipiche abitazioni che vengono in gran parte interrate proprio per migliorare la coibentazione termica dell'edificio. E veniamo invece ai giorni nostri e altri esempi di tetti verdi come quelli dell'Accademia delle Scienze della California dove si vede questa morfologia anomala sferoidale a dimostrazione del fatto che un tetto verde può essere realizzato su qualunque superficie non soltanto un tetto quindi piano ma anche i tetti caratteristici a falde delle nostre città oppure con, ripeto, forme estremamente variegate. In basso a destra la biblioteca dell'Università di Delft in Olanda che ha un'estensione elevatissima e che può essere anche calpestata dagli studenti e quindi rappresenta proprio una superficie anche fruibile dalla popolazione studentesca. E come piccolo esempio un tetto verde realizzato sui laboratori di ingegneria del nostro dipartimento in via Terracini. Si tratta di un tetto verde sperimentale quindi dotato di tecnologie per il monitoraggio dei diversi fattori ambientali e anche per studiare le migliori performance in merito alla tipologia di verde che può essere adottato. Il tetto verde è dotato di una stazione anche meteo proprio per misurare tutte le caratteristiche meteorologiche di pioggia, umidità, velocità del vento e così via. E il nostro tetto serve proprio per studiare gli effetti che una superficie verde presenta in merito ai diversi fattori di impatto ambientale che conoscono le nostre città. Innanzitutto come citavo l'effetto isola di calore quindi in che modo un tetto verde riduce questa criticità di concentrazione di calore in particolare appunto durante il periodo estivo. Poi citavo il tema delle acque piovane quindi qual è l'effetto che ha un tetto verde nella captazione delle acque piovane e quindi la riduzione dello scorrimento lungo le superfici grigie che possono provocare che può provocare rischi di allagamento delle città stesse. In che modo può concorrere a una captazione di inquinanti quindi ad esempio la riduzione dell'inquinamento atmosferico in che modo riesce a realizzare la coibentazione dell'edificio e quindi in cascata come può ridurre il dispendio energetico che ha un edificio appunto come dicevo sia per il riscaldamento invernale che il raffrescamento estivo. Tornando all'effetto isola di calore quindi è interessante misurare la temperatura delle superfici ad esempio con termocamera. Una termocamera è una particolare macchina fotografica che fornisce fotografie dove le diverse colorazioni sono in relazione alle temperature e quindi una termocamera vedete nell'immagine di sinistra zone grigie che servono e superfici grigie tradizionali la membrana impermeabile dei tetti tradizionali che servono come raffronto rispetto ad analoghe superfici verdi adiacenti e qui vediamo come le zone verdi presentino colorazioni bluastre corrispondenti a temperature molto più ridotte rispetto a quelle adiacenti zone grigie che vengono fotografate e presentano colorazioni più gialle quindi corrispondenti a temperature molto più elevate. Anche sul nostro tetto abbiamo monitoraggi delle temperature questa che riporto è una termografia realizzata nel settembre scorso la zona grigia presenta temperature che raggiungono anche i 53 gradi in questa stagione ma durante l'estate torri dei bolognesi si raggiungono anche i 70 gradi sulle superfici grigie al contrario sul nostro tetto verde in quella giornata abbiamo misurato 33 gradi virgola 2 nella zona di confine ovviamente abbiamo una temperatura intermedia l'aspetto importante dicevo è che durante anche il periodo estivo difficilmente una superficie verde raggiunge i 35 gradi e quindi nelle giornate appunto più calde c'è anche una differenza di temperatura fra l'area verde e l'area grigia che supera i 30 gradi da un punto di vista della captazione delle acque il nostro tetto verde è dotato di un pluviale di un sistema di raccolta un sistema di monitoraggio dei quantitativi qui ancora vediamo un esempio di come è stato misurato il deflusso superficiale in relazione ad un evento di pioggia in una notte di qualche mese fa si sono verificati due eventi di pioggia a distanza di un'ora l'uno dall'altro un primo evento particolarmente concentrato e un secondo evento un po' più distribuito nell'arco di un paio d'ore ebbene nel grafico in grigio si vede la risposta della zona grigia quindi un evento di pioggia concentrato che determina una risposta immediata di scorrimento concentrato lungo la superficie grigia un evento un po' più distribuito con una grossa concentrazione iniziale la risposta è del tutto analoga uno scorrimento elevato iniziale poi prosegue questo scorrimento grigio nella linea nera relativa alla superficie grigia la risposta invece di merito al deflusso sul tetto verde come possiamo vedere è molto più distribuita nel tempo i volumi di acqua raccolti captati sono i medesimi ma il tetto verde si comporta specie all'inizio durante il primo evento di pioggia come una vera propria spugna assorbendo quindi tutta l'acqua piovana e rilasciandola lentamente nelle ore successive se qui potessimo proseguire sicuramente la linea nera scomparirebbe mentre l'area verde continuerebbe ancora nelle ore successive questo garantisce la appunto captazione di un'acqua piovana anche in relazione a un evento di pioggia molto concentrato e dà la possibilità di stoccare quest'acqua che poi può essere restituita lentamente nel periodo successivo anche a favore di utilizzi sempre in ambito urbano come l'annaffiare i parchi i giardini o altri utilizzi secondari l'ultimo aspetto di vantaggio legato alla presenza di un tetto verde è quella è la possibilità di unire i pannelli fotovoltaici al tetto verde cioè i pannelli fotovoltaici disposti su un tetto verde migliorano la loro efficienza infatti si è dimostrato come l'efficienza di un pannello fotovoltaico si riduca dello 0,5% per ogni grado che supera i 25 gradi allora durante il periodo estivo vi dicevo a Bologna una superficie grigia una guaina tradizionale impermeabile grigia può raggiungere addirittura i 60 70 gradi ecco che allora oppure si stima anche fino oltre gli 80 gradi mentre la copertura verde non supera mai i 35 gradi questo fatto favorisce quindi l'efficienza dei pannelli fotovoltaici eventualmente installati su un tetto ricoperto a verde mi ho fatto vedere l'esempio del tetto verde che è sicuramente lo strumento tecnologico più interessante della nostra scuola di ingegneria in particolare del plesso di via Terracini ma non è l'unico e allora molto rapidamente vi porto alcuni esempi di progetti realizzati dagli studenti proprio perché potrebbe essere un esempio replicabile anche nelle scuole nelle scuole superiore abbiamo chiamato il nostro gruppo come laboratorio vivente della sostenibilità anche Terracini in transizione con l'idea di una collaborazione fra docenti studenti anche personale e tecnico amministrativo per realizzare dei progetti utili alla comunità e poi partendo dal piccolo dal basso replicabili poi a livello di città e allora qui alcuni esempi del nostro laboratorio vivente o come si suol dire Living Lab della sostenibilità il tetto verde alcuni progetti sulla mobilità sostenibile degli studenti studi di risparmio idrico del nostro edificio la realizzazione di case dell'acqua per la distribuzione dell'acqua di rete evitando così l'uso di bottigliette di acqua minerale con l'effetto di valorizzare meglio l'acqua potabile che è a nostra disposizione e ridurre anche la produzione di rifiuti di plastica un'idea di compostaggio di comunità un nuovo laboratorio di gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche elettroniche in particolare informatici e poi l'idea della comunicazione attraverso un blog e un giornalino che i ragazzi realizzano sul tetto verde sperimentale vi ho già raccontato alcuni progetti dei ragazzi che hanno immaginato piste ciclabile e un sharing sull'esempio di BlaBlaCar da realizzarsi fra gli studenti usando strumenti che hanno loro stessi l'idea della casa dell'acqua e il tema dei rifiuti quindi sensibilizzando tutta la comunità alla riduzione dei rifiuti al riutilizzo di alcuni elementi come i fogli parzialmente scritti che vengono raccolti nella sala studio e messi a disposizione di chi vuole ovviamente utilizzarli la raccolta dell'umido per un compostaggio poi di comunità la raccolta dei tappi di polietilene in accordo con un ONG che poi vende questi tappi quindi ha un ritorno economico per realizzare pozzi per acqua in Tanzania e poi una delle ultime idee è la raccolta delle cicche dei mozziconi di sigaretta perché anche essi possono essere riciclati in particolare l'acetato di cellulosa che nel filtro può dare luogo a una materia prima seconda utilizzabile questo è il gruppo uno dei gruppi di studenti di un paio di anni fa che ha preso il nome di balotta creativa proprio per identificare nuove possibilità di riciclo di una serie di rifiuti da raccogliersi nei nostri spazi e da recuperare questo che vi dicevo è il nuovo laboratorio di gestione e studio dei rifiuti elettrici elettronici per capire come recuperarli e riciclarli e infine appunto l'idea del giornalino e del blog per sensibilizzare gli altri studenti per sensibilizzare un po' tutta la comunità e stimolarli a una partecipazione attiva questo è uno strumento che piace molto ai ragazzi sono riusciti negli ultimo periodo anche a intervistare personalità attive sulle tematiche ambientali ad esempio Luca Mercalli o anche altri docenti di grido anche di altre università e quindi è uno stimolo per approfondire diverse tematiche e uno strumento che mi piace pensare possa essere anche esportato alle scuole superiori un progetto che sta nascendo adesso appena riusciremo a rilavorare tutti insieme come comunità nel nostro plesso di terracini è quella dell'eliminazione della plastica dal bar quindi la plastica a usa e getta la plastica delle bottigliette di acqua minerale e verrà sostituito da un erogatore a disposizione degli studenti con acqua fresca e frizzante gratuita la raccolta dei tappi come dicevo e l'eliminazione in senso lato di tutto il packaging alimentare usa e getta che ancora è presente il progetto vede il coinvolgimento di studenti che andranno anche a misurare la riduzione di impronta di carbonio quindi attraverso uno studio vero e proprio di vantaggio in termini di emissioni di CO2 derivante da queste buone pratiche e infine il nostro gruppo di terracini in transizione partecipa a un progetto col comune di Bologna estremamente connesso col settore ambiente del comune di Bologna per il riciclo dei banner pubblicitari legato a attività culturali del comune stesso dal cinema ritrovato alle diverse mostre a Bologna estate questi cartelloni chiamiamoli così sono di materiale plastico in particolare di polipropilene che può essere molto ben recuperato e riciclato come materia seconda per realizzare nuovi oggetti questi che vi ho fatto vedere sono alcuni esempi che portiamo avanti come gruppo di Living Lab della scuola di ingegneria nel plesso di terracini ma che sono un eccellente secondo me esempio da replicare anche nelle in altre scuole dell'università ma in particolare nei licei e scuole superiori della nostra regione con questo ho terminato e vi ringrazio per l'attenzione di licei di licei di licei Grazie.